Negli anni si è fatto una strategia, si è costruito una strategia importante che ha coinvolto le università, che ha coinvolto il mondo dell'innovazione, della ricerca e che oggi sta venendo luce, una luce importante, questo è un frutto del lavoro di anni, stiamo lavorando con casse, posi e presti sul tema degli acceleratori d'impresa ma stiamo lavorando anche per fare in modo di costruire un nostro fondo di investimento costruito insieme a Cuglia Sviluppo per fare in modo di capitalizzare e supportare queste imprese. Noi faremo un primo fondo di investimento mettendo insieme 80 milioni insieme a cassa, posi e prestiti ma non solo questo, proveremo a costruire un nostro fondo, una nuova programmazione immaginando che Puglia Sviluppo non sia solo un ente che eroga unicamente incentivi a fondo perduto ma può essere un ente che dà supporto economico e finanziario. Io credo che la Puglia possa dire la sua su un settore in questo momento altamente strategico su cui sperimentare che è quello dell'economia circolare e soprattutto quello dell'energia pulita. Su questo stiamo provando a costruire una strategia che va da Taranto a Brindisi, realizzando i fondi del PNRR, realizzando anche i fondi del Just Transition Fund, immaginando che in Puglia si possa produrre l'energia pulita ma si possa anche sperimentare dei progetti che possono portare l'attuale sistema industriale a non inquinare il nostro territorio.